Vi ricordo che a bordo ring c'è Gennady Golovkin, il campionissimo dei pesi medi. Molti prospettano una possibile sfida tra i due. Se ne era già parlato qualche anno fa. Comunque insomma non è che le parole di... Ecco, ci siamo, attenzione. Una performance totalmente dominante. Non senti una animosità speciale a Julio, anche se ha detto che non aveva rappresentato il boxeo mexicano come potrebbe. Ora che la luce è finita, potete dire, ci sembrava che avevi un'altra animosità, non? Asi è, io credo che la rivalità che esistia tra il e io è stata un'inspirazione per noi. Per mostrarle a la gente che non è solo nocchiare, ma anche se boxeare, se muovermi, se pegarsi, se faccio... Non so solo mettere K.O., so boxare, so portargli colpi, tutti i tipi di colpi. E questo è quello che dovevo fare per vincere. La rivalità c'è tra noi due, siamo entrambi messicani, vogliamo essere l'esempio, il modello, gli idoli del nostro pubblico e l'ho dimostrato. Ah, è pesante qui nei confronti di Chavez. Dice, per avere una grande sfida tra due puggi bussicani, ci vogliono due che facciano veramente il match. È pesante nei confronti di Chavez. No, realmente io pensé che iba a salire a intercambiare golpes. Io pensavo anch'io che lui scambiasse, mi affrontasse a viso aperto. Io speravo di regalare una grande battaglia al pubblico e raccoglie l'applauso del pubblico e dice, ma io ho fatto tutto quello che dovevo fare. E lui non ha scambiato i colpi e questo ha dato a scapito dello spettacolo. E' un'altra cosa che posso fare al quadrilatero e posso fare molte cose più. Sempre ho detto che lo che il rival mi dà la pauta per farlo lo voglio fare per ganare. Io sul ring sono pronto a tutto per vincere e alla fine bisogna dimostrare nel quadrilatero, così l'ha chiamato, con i fatti e non con le parole. Perché hai fatto questo? Non so, volevo sperimentare qualcosa di nuovo. Sempre che faccio sparring non mi sento, e mi sento bene. Mi sento bene, mi piace sperimentare qualcosa di nuovo con gli sparring. Io se le ho detto a mia schiena che non mi sento fino a che fosse necessario o non fosse necessario in tutta la pellea. Io volevo provare qualcosa di nuovo. Io non sento male durante il sparring e non è necessario in tutta la pellea. E ho pensato che non fosse necessario in tutta la pellea. E ho detto a mio corno che non sento male fino a che fosse necessario in tutta la pellea. E ho detto, ho detto, ho detto che c'è un plan in place per il tuo prossimo avversario. Si parla adesso del futuro, il prossimo avversario. Chi sarà? Golovkin, tu sei il prossimo amico mio. Gli l'ha detto in inglese. E beh, questo lo volevamo. Addirittura c'è la bandiera del Kazakistan. C'è la bandiera del Kazakistan pronta. E qui le immagini di Gennady Golovkin che è a Bordo Ring. Eh, loro sono bravissimi a preparare l'evento. Vedi com'è? Come hanno fatto. Sono davvero grandi nell'organizzazione. Sia la Golden Boy Promotions di Della Oia sia la Match Room della famiglia Hearn. E' già fatto il mega evento. Hanno già fatto il match. E senti il pubblico entusiasta. Eccolo qui, eccolo Gennady Golovkin. Triple G, che adesso anche lui sale. Probabilmente sale sul quadrato. Vediamo. Si ripete la sede che abbiamo visto a Londra, a Inghilterra, tra Joshua e Klisco. Eh sì, guardate che Gennady Golovkin entra con la sua musichetta Seven Nation Army. La sua musichetta la faccio per dire, per ridere. Ci mancherebbe. Tanto una canzone alla quale noi italiani siamo molto affezionati. Ci ricorda i trionfi mondiali calcistici in Germania nel 2006. Ed eccolo qui. Gennady Golovkin, il campionissimo kazako, campionissimo dei medi, che saluta Canelo, saluta Oscar Della Oia. Dunque, è tutto pronto. Sappiamo già chi sarà il prossimo avversario di Canelo o il prossimo di Golovkin. Mettetela come volete. Adesso parte la sfida. Guarda, se lo diranno negli occhi. Guardandosi negli occhi. Il contratto è fatto. Cioè, diciamo, la sfida è pronta. Sì, dice Canelo. È fatta. È fatta. Siamo Golovkin. Dice, abbiamo aspettato a lungo questo momento. Sono molto eccitato. faremo la storia. Siamo pronti. Vi chiedo un parere sul match. Voglio congratularvi con Canelo. E lui torna a Golovkin sulla loro futura sfida. Non si esprime su Chavez. for not fighting Triple G as though you would duck a fighter when you were telling everyone all along your promoter said this is the way the business needs to get done. Si ricorda quando si parlava di una sfida qualche anno fa dice tu ti sei tirato indietro qualcuno ti ha accusato di non aver accettato la sfida. Io non ho mai temuto nessuno in 15 anni di professionismo. Quando nasci io già se abbia repartito il miedo quando sono nato è scomparse la paura è spartito il miedo tu hai avuto una grande carriera ma battere Triple G cioè Golovkin è un'altra cosa come pensi di farvi di riuscirci? Sono molto contento e sono certo che anche contro Golovkin mostrerò cose nuove miglior match dopo match Canelo cosa pensi della sua performance Gennady l'ho visto molto bene e noi faremo la storia sarà il miglior challenge della tua carriera al 100% sarà la sfida più impegnativa della mia carriera è lo che si spera per settembre il reto più grande lui dice aspettiamo la sfida per settembre è un pelleador duro e credo che va a essere una grande sfida molto difficile lui è un pugile molto duro regaleremo un grande spettacolo giustamente dice io combatto contro i migliori è per questo che sono un vero campione vuoi dire qualcosa a Canelo? ci vediamo a settembre molto misurato anche Golovkin e la fortuna è per i migliocri a Canelo si lascia andare a qualcosa in più rispetto a Golovkin vedi come i campioni devono essere anche degli attori per sapere ricitare venite venite da noi grazie a tutti grazie a tutti